Buonasera a tutti, benvenuti. Mi congratulo innanzitutto con gli speech precedenti, veramente belli e interessanti. Io cercherò di fare almeno altrettanto, anche se il tema può essere un po' pesante. Allora parleremo di dati e algoritmi e in qualche modo cercheremo di capire in che misura l'uso dei dati e degli algoritmi sta influenzando la nostra vita su due sfere in particolare. La sfera politica e la sfera della sicurezza, della cosiddetta giustizia predittiva. Partiamo proprio da quest'ultimo punto e partiamo da quell'immagine in alto a sinistra. Ci siamo chiesti come mai la polizia ha perquisito e poi ammazzato proprio George Floyd e non uno di noi, bianco, come in questa sala. Proveremo a spiegarlo alla fine di questo talk, ma è abbastanza impressionante affiancare la storia di George Floyd alla storia di Radio Rahim, che è uno dei protagonisti del film Fa la cosa giusta di Spike Lee del 1989, che racconta esattamente la stessa storia con più di 30 anni di anticipo. Mentre il tema delle elezioni politiche lo vedremo tra un po', ho riportato quest'altro bellissimo film che è Taxi Driver, che si interseca un po' con una storia politica statunitense e con questa frase abbastanza populista che leggete a sinistra, We are the people, che era lo slogan di uno degli interpreti del film. Una figura secondaria, ma comunque importante. Nel titolo trovate scritto data, ma in realtà quello che hanno interesse sono i big data. È un termine di uso comune, ma in realtà esiste nei vocabolari da meno di 10 anni. Tra il 2013 e il 2014 compare nei vocabolari statunitensi. Chi produce i big data? I big data vengono prodotti principalmente dagli smartphone, da tutti i sistemi connessi a internet, ma i grandi produttori di dati sono ovviamente le case farmaceutiche che trasmettono tutto ciò che fanno, chi compra i farmaci ha i server che gestiscono queste informazioni, ma anche tutti i nostri acquisti sui beni di consumo minimi, un pacco di biscotti, viene completamente tracciato. Chi immagazzina questi dati? I dati sono immagazzinati nel mondo occidentale sostanzialmente da solo 5 aziende. 5 aziende al mondo, nel mondo occidentale non conosco abbastanza bene la situazione cinese e neanche quella russa, ma nel mondo occidentale Facebook, Google, Amazon, Apple e Microsoft hanno praticamente tutti i nostri dati, tutti. Perché tutti i dati vengono depositati sui data server di proprietà di queste aziende. Quindi possiamo dare tante definizioni al termine big data, qui ne trovate alcune interessanti su questo sito dell'Università di Berkeley, ma io ho riportato questa che a me piace di più e che leggiamo insieme. Dice storicamente molte decisioni politiche, militari, economiche e personali vengono prese dai cervelli che operano secondo logiche non predicibili sulla base di esperienze soggettive. Big data rappresenta un cambiamento culturale in cui sempre più decisioni vengono prese da algoritmi che funzionano secondo logiche trasparenti e prevedibili. Quindi il termine big non si riferisce a quanto è grande il nostro insieme di dati, ma alla natura pervasiva di questo cambiamento. Una definizione più tecnica di big data li associa alle 4V. Volume, quindi una grande quantità di dati, varietà, dati acquisiti da fonti eterogenee, quindi carte di credito, esami del sangue, immagini catturate dalle telecamere e così via, e velocità, cioè questi dati si aggiornano velocemente a mano a mano che vengono raccolti, acquisiti e memorizzati. La 4V, non l'ho segnata lì, è pleonastico, è ovviamente valore. Questi dati sono importanti perché hanno un valore economico importante. Ora, appunto, chiediamoci velocemente come facciamo a produrre questi dati, e quindi chiediamoci quanti dispositivi connessi a internet ha ognuno di noi, immaginando i telefonini, immaginando gli iPad, i computer, le smart TV, eventualmente i navigatori, tutto quello che vi viene in mente. Chi ne ha soltanto uno alzi la mano. Ora facciamo un esperimento per capire se stiamo vivendo nel passato, nel presente o nel futuro. Quindi chi non ne ha nessuno, alzi la mano. Uno? Solo uno. Qualcuno ne ha solo uno. Chi ne ha cinque o più di cinque? Perfetto, siamo tutti nel presente. Allora, guardate, nel 2003 c'era soltanto un dispositivo collegato a internet ogni dieci persone. Quindi la seconda fila dove ci sono dieci persone si sarebbe dovuto dividere l'unico computer per controllare l'email. In dieci con un computer. Nel 2020, questa è una media mondiale, ci sono sei dispositivi e mezzo per ogni persona. E vedete come se ogni dispositivo collegato a internet nel 2003 si fosse riprodotto, avesse fatto figli, nipoti, figli di nipoti, eccetera, per un fattore 8.000. Quindi in 17 anni i dispositivi connessi a internet si sono riprodotti molto di più degli umani. Gli umani sono passati da 6 miliardi a 7 miliardi, i dispositivi connessi a internet da 500 milioni a 50 miliardi. E ogni anno noi produciamo il 40% dei dati in più dell'anno precedente. Quando entra l'analisi dei dati nella competizione politica? Entra prepotentemente nella campagna di Obama. Qui vi ho riportato l'annuncio del professore Rajit Ghani, che fonda intorno al 2010 una start-up per fare analisi di dati per competizioni politiche, che diventa il capo dello staff di Obama. E questo è l'annuncio che lui mette su LinkedIn. Siamo in cerca di esperti data scientist che vogliono fare la differenza. La campagna di Obama vedrà un ampliamento del team analitico per risolvere problemi di data mining su vasta scala e a forte impatto. Si presentano diverse opportunità di inserimento professionale a tutti i livelli di esperienza. Cerchiamo esperti di statistica, di apprendimento automatico, di analisi del testo, di analisi predittiva, per lavorare su grandi volumi di dati e contribuire ad orientare la strategia elettorale. Questo era un annuncio che era presente su LinkedIn. Ci rendiamo conto di tutto questo qualche anno dopo con lo scandalo Cambridge Analytica. Con lo scandalo Cambridge Analytica noi capiamo il valore dei dati personali, soprattutto nelle competizioni politiche. Ora, i dati sono carburante, ma il carburante senza un motore non serve a nulla. Così come un motore senza carburante non può funzionare. E chi è il motore che si alimenta dei big data? L'intelligenza artificiale. Algoritmi di intelligenza artificiale. Sono importanti? Sì, sono importanti. Chi svilupperà la migliore intelligenza artificiale diventerà il padrone del mondo. Questo è un pensiero espresso nel 2017. Qualcuno sa da chi? Vladimir Putin. Questa è una frase di Vladimir Putin. Ma tutto il decennio è un decennio contrassegnato dalla comprensione dell'importanza dei dati in tutti gli ambiti della società. Quindi riportiamo Wikileaks e quindi il lavoro fatto da Assange, informatico e giornalista australiano, per pescare nei siti governativi notizie che non si volevano diffondere. E ancora prima, nel 2014, il famosissimo scandalo della sorveglianza di massa quando si scoprì che la National Security Agency sostanzialmente ascoltava le telefonate di tutti i cittadini americani senza ragione. Quindi non i sospettati di qualcosa. Le ascoltava e basta. E quindi c'è questa vignetta che a me fa sempre molto ridere in cui Obama fa visita in una scuola e un bambino gli dice ho saputo da papà che voi ci spiate e lui spiega al bambino quello non è tuo padre. Ora, passiamo ai nostri casi di studio. Tre casi di studio. Il primo è eclatante, si chiama il megafono dell'elettore. Il megafono dell'elettore è un esperimento che ha fatto Facebook, a insaputa di tutti, in particolare a insaputa dei cittadini statunitensi perché è stato fatto su di loro. E sostanzialmente in che cosa è consistito? È consistito in questo. Il giorno delle elezioni, il 2 novembre 2010, i 61 milioni di utenti Facebook che erano iscritti alle liste elettorali e che si sono collegati a Facebook potevano sperimentare tre situazioni diverse. La prima situazione su 600.000 persone non succedeva nulla. La seconda situazione gli compariva quella cosa in alto dove c'era scritto hanno votato tot persone e tu puoi andare a votare là e se hai già votato mi puoi premere il pulsante così il contatore va avanti. E poi invece su 60 milioni di persone, un esperimento fatto all'insaputa di 60 milioni di persone, questo è stato pubblicato su Nature, quindi non me lo sto inventando, l'ho letto da loro, è un articolo pubblicato da Facebook su Nature, su 60 milioni di persone che esperimento hanno fatto. Hanno detto puoi andare a votare là, hanno votato tot persone, ti avviso che questi sei tuoi amici hanno già votato. Quei sei volti sono volti di amici graduati a seconda del grado di amicizia e per fare questo loro hanno lavorato due anni prima incrociando i dati social con i dati reali. Per cui poteva capitare, per esempio, che a me comparivano i sei amici del cuore, mentre a un'altra persona gli comparivano sei amici meno amici. sono andati a misurare se per caso questa popolazione era andata a votare più delle altre e all'interno di questa popolazione, se quelli che avevano avuto il messaggio dagli amici del cuore, ovviamente gli amici del cuore non sapevano di mandarli questo messaggio, avevano votato più degli altri e hanno scoperto di sì. Hanno scoperto di sì per un effetto non enorme, ma assolutamente misurabile. Questa cosa è importante, perché è importante? Perché per i collegi uninominali basta un voto per prendere il collegio. E ricordiamo tutti bene che nella campagna che fece Bush presidente, lui prese lo Stato della Florida per 537 voti in più dell'avversario, che era il Gore, che è lo 0,01%, quindi un epsilon, e prendendo la Florida diventò presidente degli Stati Uniti. Primo tema, gli online social network possono fare andare le persone a votare di più o di meno. Ovviamente non è difficile immaginare che possano fare andare a votare chi vogliono loro, perché magari possono mandare messaggi soltanto a una parte politica. Tu mi dai il tempo? O no? Posso andare? Sono a 12 minuti. Grazie. Seconda questione. Dopo un po' di anni mi è comparso quest'altro studio molto interessante fatto da questo gruppo dell'Università di Oxford che si occupa di questa cosa che si chiama computational propaganda, cioè la propaganda fatta attraverso i computer. Qui vado velocissimo. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che nella settimana durante l'elezione di Trump 55.000 account falsi di Twitter, cioè non riconducibili a persone vere, hanno inondato i cittadini americani con 126 milioni di messaggi. Tutto questo avveniva da server russi. Non ho detto della nazione russia, ho detto server collocati in Russia. Facendo analisi complicatissime, sempre basate su intelligenza artificiale, quindi qui un'intelligenza artificiale che combatte il male, che cosa si è trovato? Si è trovato che attraverso Twitter e Facebook il gruppo di supporter di Trump ha diffuso una quantità di notizie false superiore a quella di tutti gli altri gruppi messi insieme, sia su Twitter che su Facebook. Queste sono delle mappe di aggregazioni di gruppi che leggono e scrivono notizie false e questo studio di Oxford, che è uno studio davvero particolarmente interessante, ha trovato questo risultato che ha un che di interessante ancora di più. Quindi, secondo tema, computational propaganda. Esiste? Esiste. E' esistita e probabilmente esiste ancora. Arriviamo alla domanda con cui ho aperto. Come mai è stato perquisito George Floyd nel 2020 a Minneapolis e come mai è stato ucciso George Floyd a Minneapolis? Allora, le forze di polizia ovviamente non sono infinite, non possono pattugliare tutto, acqua 24 continuamente, devono fare delle scelte. ormai utilizzano motori di intelligenza artificiale per fare queste scelte. Quindi questo che voi vedete è un software che si chiama PredPol. Se controllate sul telefonino, andate sul sito e trovate il software, volendolo potete anche comprare. E questo software praticamente che cosa fa? C'è scritto qui. Noi facciamo delle predizioni basate sulle informazioni che le vittime hanno fornito alla polizia e lo vogliamo fare per ridurre le vittime e rendere le società più sicure. Questo software è stato sviluppato da un'università pubblica, UCLA, anche l'esperimento di Facebook era stato fatto con un'università pubblica californiana. E quindi quando le forze di polizia escono per il pattugliamento che cosa fanno? Aprono questa specie di iPad e l'iPad gli dice, gli mostra questi quadrati rossi. Quindi gli dice dove andare, anche quando andare. Allora la domanda è questo software è neutrale? Non è neutrale. Guardate qui. Nel 2011 il 5% della popolazione di New York tra i 14 e i 24 anni è black o latino, ma vengono perquisiti nel 41% dei casi del totale. Quindi un fattore 10 rispetto alla loro rappresentatività nella popolazione. E quindi è scoppiato 10 anni fa circa questo scandalo su questo software e quindi possiamo dire con certezza che questo software è razzista in maniera inequivocabile. Che cosa dice il software? Dice cosa, dove e quando. E che cosa fanno le forze di polizia quando fermano i cittadini americani? Usano sempre la stessa tecnica che si chiama ferma, chiedi e perquisisci. Quindi le persone vengono fermate e vengono perquisite. Il modo di funzionare di questo algoritmo è basato su teorie sociologiche. Non è un problema tecnico l'addestramento dell'algoritmo. L'addestramento dell'algoritmo dipende da cosa gli si dice di fare. L'algoritmo viene addestrato per aumentare la possibilità di successo, cioè fermare sempre persone che hanno potenzialmente commesso crimini e perquisirle qualunque sia il tipo di crimine e qualunque sia il tipo di crimine deriva da lo statement di tolleranza zero di Rudolf Giuliani a New York e dalla teoria delle finestre rotte che è ancora precedente che non approfondisco per ragioni di tempo ma che potete tranquillamente trovare su internet. Quindi quello che noi ci dovremmo chiedere anche qui noi cittadini bianchi saremmo disposti a sopportare l'oltraggio di essere perquisiti il 10% di volte in più di un'altra etnia presente nella nostra nazione? La risposta è scontata. Concludo le multinazionali dell'Information and Communication Technology sono soggetti politici? Evidentemente sì. Lo abbiamo dimostrato poi anche nel corso degli anni tutti quanti voi ricordate l'audizione di Zuckerberg al Parlamento statunitense. Le opportunità offerte dai Big Data in questo momento si armonizzano con le regole della democrazia? Anche su questo possiamo essere abbastanza certi della risposta. La risposta è no. Siamo in un momento che chiamiamo Big Data Revolution e come tutti i momenti come tutte le fasi di rivoluzione siamo fuori dall'equilibrio. Quindi in questo momento sicuramente c'è una fortissima sproporzione tra quello che possiamo fare con i Big Data e quello che è giusto fare. E soprattutto siamo lontani dall'idea del dato come bene pubblico. Produciamo dati sostanzialmente come consumatori. la percentuale di quello che facciamo con i dati come servizi a noi è molto più bassa di quello che facciamo come acquirenti di qualche tipo di merce. Quindi concludo riportando questa bellissima frase che direi sembra quasi una pesa in giro di Facebook nell'articolo del megafono dell'elettore. Loro si chiedono se vogliamo veramente capire e migliorare la nostra società il benessere e il mondo intorno a noi è importante capire se l'uso di questi metodi cioè quelli di propaganda elettorale possono influenzare il comportamento reale delle persone e la risposta che si sono dati è che tutti noi ci diamo e sì. È evidente quindi che siamo in una situazione di tale disparità per cui tra il forte e il debole è la libertà che opprime e la legge che libera. Vi saluto vi ringrazio e vi consiglio questi quattro libri che purtroppo non ho scritto io ma che mi hanno fortemente ispirato per questo talk. Grazie ancora.